Patrone Valentino Sciotti, a 15 giorni circa dall'esclusione clamorosa della Nippo Vini-Fantini dal Giro d'Italia, è passata l'amarezza? No, l'amarezza è una cosa che non passa mai, soprattutto perché la ritengo una profonda ingiustizia, totalmente immotivata. Ha parlato con l'RCS, c'è stato questo tam-tam mediatico importantissimo, come mai era successo prima, qualche novità? Ma guardi, non ho parlato con l'RCS, anche perché penso che l'RCS sia profondamente imbarazzata, avrebbe troppe cose da spiegare che forse non è in grado di spiegare. Sono parole forti queste, Valentino Sciotti ci sa dire cosa pensa di questa esclusione, cioè perché è stata esclusa la Nippo Vini-Fantini? No, purtroppo non lo so, irrazionale non ci arriva a dare una giustificazione, sicuramente c'è qualcosa di irrazionale, c'è qualcosa che sicuramente non è facile conoscere con la ragione, c'è qualcosa che sfugge. Lei è stato protagonista, lei nel senso Vini-Fantini, anche di importanti prese di posizione politiche insieme con l'Androni in questo momento in Parlamento, non si era mai verificata una cosa del genere? Non è che è stata una presa politica nostra, se in Italia ci stanno 35 parlamentari, mi pare, di tutti gli schieramenti politici che prendono una posizione forte e chiedono sia al Ministro dello Sport, sia al Primo Ministro, sia alla Camera, sia al Senato di valutare questa cosa perché la trovano semplicemente scandalosa, forse un po' di sostanza c'è perché non è un'iniziativa venuta da un singolo e non sono tutti abruzzesi perché indubbiamente noi abbiamo avuto una solidarietà qui in Abruzzo meravigliosa dall'On. Razzi a Di Stefano al Senatore Ginobile che ha fatto pure lui una bellissima interpellanza e poi 5 Stelle con il Senatore Castaldi che hanno fatto anche loro un'interpellanza molto molto motivata, entrando molto nel dettaglio e andando a toccare quei punti che vanno toccati quando accade una cosa del genere. Fuori l'Androni, fuori la Nippo Fantini, dentro la Gazprom e dentro la formazione polacca? Eh, non saprei che dire, non è una cosa normale, il buonsenso non lo vuole. Il Tour ha premiato le francesi? Ma certo, il Tour ha 5 squadre francesi che corrono il Tour, noi abbiamo una squadra e mezza italiana che corre il giro, significa che il tifoso italiano ha meno possibilità di andare lì e manifestare il suo affetto verso degli italiani, non è una cosa bella né normale. Il patron, o meglio il direttore dell'RCS Vegni ha dichiarato pubblicamente a Redondo non è un corridore che fa la differenza, questo non può bastare? Ma io non lo so, Vegni, che tipo di valutazione ha fatto? Perché se è un corridore che ti vince la maglia azzurra, ti vince una tappa, in altre gare si dimostra la pari a battagliare con i migliori ciclisti del mondo e non è all'altezza, mi sta bene. Se Damiano Cunego, che è uno dei tre vincitori ancora in attività, non è all'altezza, mi va bene lo stesso. Se il vincitore di due anni fa del campionato italiano non va bene, mi va bene lo stesso. Ma poi mi devi dire che ha invitato squadre che sono superiori. Allora ci sta tutto. Se invece mi inviti delle squadre che veramente a leggere i nomi ci sta da chiedere ma chi sono? Non sai neanche se fanno basket, piuttosto che fanno atletica o il torneo di bocce. Allora comincia a essere preoccupante. Non è una preoccupazione che mi devo prendere io, ma penso che anche la proprietà di RCS si deve chiedere ma scusa ma che è successo? Come mai? Possibilità di un ripescaggio all'ultimo, al giro qualche escamotage ci spera Valentino Sciotti? La vita mi ha insegnato che quando qualcosa si vuole si può sempre fare, almeno si può tentare. Se hai fatto un errore, se hai fatto uno sfregge a qualcuno puoi provare almeno a scusarti, puoi provare a fare qualcosa che inverta la tendenza. Io penso che ci sia ancora margine per fare qualcosa. L'ultima dietro la telecamera la sta guardando la RCS con Mauro Vegni, il messaggio a piacere di Valentino Sciotti. Ma questo non è il momento di dare i messaggi a Vegni. Penso che se un giorno parleremo a quattro occhi, a parte che io gli ho già scritto il mio pensiero. Lui sa benissimo nel dettaglio tutto quello che penso. Qualcosa ce la può dire pure a noi? No, perché buona parte sono cose molto personali che non si possono dire. Di certo c'è che io ho seguito delle regole, le regole che lui ha dato pubblicamente a tutti, ha dato privatamente a me e io le ho seguito in un modo impeccabile. E poi quelle regole sono state totalmente stravolte. Ha invitato tutte squadre che erano all'opposto delle regole che ha dato a me. È come se mi dici, vieni che domani facciamo una corsa podistica e poi quando finisco mi metti in classifica la stoffettista con la moto che andava davanti. Ti dico, ma quella andava con la moto. Sì, sì, ma si poteva fare anche con la moto. E me lo dici dopo la gara che si poteva fare con la moto. Questo è successo quest'anno con RCS. Il prossimo anno vini Fantini con Sciotti, Europa vini con Marchesani insieme al Giro per un riscatto abruzzese? Ma guarda, io penso, non lo so se staremo ancora nel ciclismo. Addirittura? Assolutamente. Se sono nel ciclismo non starò in Italia. Io non credo che sia una cosa bella, che io devo investire i miei soldi per tenere in piedi un settore, quando il settore per noi non ha fatto nulla e qui chiamo in causa anche la federazione, a tutti i livelli, sia locale che nazionale. Non ho letto, e questo veramente mi ha stupito, una sola dichiarazione ufficiale. Non esiste una. Possiamo leggere quello che vogliamo. Nessuno si è accorto che in Italia il ciclismo rischia di morire completamente. Non rischia, è quasi una certezza. Siamo rimasti a zero squadre World Tour. Abbiamo solo quattro professional. La migliore, almeno a livello di stabilità e progetto futuro, è stata messa nella condizione di andare via a questi ragazzini che oggi fanno via dal gioco, dai piaceri della vita e fanno i sacrifici per allenarsi. Che gli diciamo? Che il futuro non aspetta nulla perché non ci sono squadre dove poi possono diventare dei professionisti? Di ultime domande, mi sa che ne devo fare ancora altre, Valentino Sciotti, è più arrabbiato con l'RCS o con la federazione? Ma io ora non sono arrabbiato, sono proprio deluso. Con chi più? In particolare più con l'RCS o più con la federazione? Ma guarda, non è una cosa contro le persone, è di sistema, perché poi alla fine, quando vedi che nessuno difende il suo prodotto e tu invece quotidianamente per il lavoro che fai, per l'azienda che hai, ti dedichi totalmente a guardare la crescita del tuo prodotto in prospettiva futura e vedi persone che stanno pensando a oggi, chi pensa una rielezione piuttosto che chi pensa che oggi magari ha preso 500 mila euro che sono potuti, non lo so, è una mia deduzione, sono potuti essere donati in sponsorizzazione per una gara ma non è che stai a pensare che magari questa gara perde di interesse e il futuro non ce l'hai più e gli altri non sanno a pensare che avere meno squadre professionisti, anzi quasi non averle, significa non avere un futuro. Valentino, una promessa ai tantissimi abruzzesi che amano il ciclismo e amano la Nippo Vinifantini. Io Valentino Sciotti il prossimo anno cercherò di farmi valere al Giro d'Italia. Il Giro d'Italia non è mio, il Giro d'Italia è di RCS e invita chi vuole.